Ci basta guardare sempre più vicino o fuori dalle vetrate di ogni casa per percepire il peso di una situazione economica sempre più grave, di un disagio sempre più diffuso, che noi non possiamo ignorare e che siamo qui, siamo qui anche per garantire il benessere dei nostri cittadini. Ora più che mai c'è bisogno che l'Europa, l'Unione Europea, si prenda le sue responsabilità e faccia il possibile più di quanto abbiamo fatto finora per eliminare queste privazioni e le privazioni alimentari, la povertà nel continente e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. È un obiettivo ambizioso che deve andare di pari passo però con gli stanziamenti e i fondi attuali non sono sufficienti. Facendo un calcolo, ciò che abbiamo stanziato corrisponde a 75 euro pro capite all'anno per ognuno dei 4 milioni di cittadini in stato di privazione materiale grave. E se aggiungiamo i cittadini per i quali vengono disposti i servizi, queste cifre scendono ulteriormente. È per questo che dobbiamo essere coerenti tra affermazioni e decisioni.